Noi chiediamo al governo di intervenire immediatamente, ma di intervenire con forza perché è a rischio tutto il compatto agroalimentare, è a rischio la qualità dei nostri prodotti. Troppe aziende hanno chiuso e rischiano di continuare a chiudere nel settore dell'agricoltura. Siamo di fronte ad un governo debole, ad un governo debole nei confronti dell'Europa, ad un governo incapace rispetto a risolvere le questioni dell'agricoltura. Questioni ancora apertissime che il governo non è in grado di affrontare con un ministro decisamente incapace. Parlo soprattutto della questione dei nitrati, parlo della questione del latte in polvere, della concorrenza sleale rispetto alla qualità dei prodotti italiani e parlo anche della questione della PAC dove il governo dopo sette mesi non è ancora stato in grado di fare i calcoli per distribuire i soldi alle regioni soldi che poi devono andare a tutte le imprese agricole per avere quella liquidità necessaria per stare in piedi e continuare a produrre. Siamo a rischio e io credo che oggi ancora una volta il governo ha dimostrato che se c'è un batterio per l'agricoltura il batterio più pericoloso è proprio questo governo.